Ciao! Ciao a tutti! Io sono Nelly! Io sono Megmi! E adesso faremo una reaction di una ship degli Icon, Junho e Jinwan, che ci è stata chiesta nei commenti. Il video si chiama He's a monster. 3, 2, 1. Con la canzone dei got seven, he's a monster. Ecco perché il titolo... Ti voglio sentire? Cigure, la... La differenza del pezzo. Che carina di un manco! Che carina Cigi! Awww, il genuino era di come... Ma fai il modo in cui vada lui! Ah oddio, mi sembrava una gonna per un attimo Ah, io giuro, la cosa... Cioè, che fa più male nel ruffimento del testo No, che carino Ma loro hanno sempre le scelte tipo in ascensore, cioè in metro Che carino Non se la faccio a concentrarmi sugli altri Ah, qua c'ha oddio Oddio Sì, 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 sì Lui ha sempre questo vizio, cioè, il numerato la vita viene lì Di prendere per il fianco Ci manno Ci manno Sì, però che bello che sono Passi a coglione, no? Non dobbiamo più dietro per il fianco Oddio, anche qua, tra che pesi Oddio Che belle Oh, che carine Che è? Cosa è? Che gioco Oh, no, no, devo dire Un po' di forza che corretta E' un po' di forza di 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 Oh, più người questo è il video che si può fare di questo qui guarda le cosi ha sempre i capelli coordinati unito in fase di giorno sono bellezza vabbè quello è sempre quello di macchone quando mai gli hai conosciuto il macchone sono il boyfriend numero 2 allora adesso guarderemo l'altro si chiama sempre ti giunglo plus cingwan love scenario saranghe hetto urega mana urega mana urega mana urega moure la non si vede neanche gemoli aaaah cosachi cosi cos'è C'è un po' cos'è? Mi fa male la mano Che loro fanno spesso anche quello delle BLACKPINK di cuore Sì, cosa così? Sì Forse più WHITEJ Non so Ah, li ha fatti Oh! Crescissimo Oddio, che carino Guardate Oddio, sono molto belli rossi, guarda C'è un po' Non so, perché vuole prenderlo Che si fa il tipo di alto Oddio, pensare che effettivamente è anche più grande di un po' di qualche anno Mi fa strano Dio, quando ho un tozzo tu? Non ho un tozzo tu? Sì, ho un tozzo tu! Che carino! E' un po' più grande E' un po' più lunghi E' un po' più bello Che faccio che... Ma bebe, anche quando non vuole Ma ha tantissimi fans Ma si è so in tracks Sempre da Beh, i bobby vuole essere in parte a VI Ovviamente E' la faccia Mi piacciono questi zoom proprio Mentre Ma è che bello Che carino Che bellino Che bellino Aspetta, no? Ok, sì Che carino Che carino Che carino che hai drogato con cappuccio dietro ma t'era Bobbi o B.I. guarda che carino! che carino! ma noi stiamo facendo poi scherzissimo B.I.L.I. tipo la notte che carino non capisco non si capisce ma c'è un muro ah sono lì sta calmo anche lì ah se questa cosa ci potrà tenerlo oddio che bellino mi sono passata anche veloce giuro comunque grazie per chi ha chiesto di fare la reaction come appunto avevo detto non c'è problema le shippiamo tantissimo cioè negli action sono un po' un misto in realtà le shipp non tutti e per tutti e via e quindi niente se avete da chiedere altre shipp anche in generale anche di altri gruppi e ci vediamo alla prossima reaction ciao! no dai cook grazie mi dispiace no mi cook ciao! 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 ciao!